Bene ragazzi siamo i Grananas e siamo tornati con una nuova challenge La challenge dei Grananas E oggi la sfida che faremo sarà Imitalo youtuber Quindi andremo ad imitare youtuber O italiani O che cazzo Stefano Stavo imitando, cioè nel senso Bisordo un mondo, magari io Posso servire a fare qualcosa Imiteremo youtuber stranieri, italiani Qualsiasi tipo di youtuber Che magari ci viene in mente Che potremmo conoscere in due Perché se io gli dico a uno youtuber che non conosce Non può imitarlo, quindi il primo youtuber Sarà appunto Gabo di Squared Vado, chi va, comincia Ragazzi ho un Gabo di Squared per me Su mio canale Ostia Ma basta un tanto E' finito Ragazzi qui è il Gabo di Squared, bentornato sul mio canale E siamo qui oggi con Devil Within Che è questa roba No però E poi però tutto molto etnici Quindi tocca fare anche l'accento Grande Gabo Un cuoricino per te Che non è come quello di Gervinio Che era un fecchio E' un buco del culo Un cuoricino vero per te Alla prossimo è Dread Io non so buono Dread Quindi cioè Beh ragazzi sono Dread E per tornare su mio canale Con questo nuovo video Oggi andremo a fare la sfida Dici sempre la stessa identica cosa E ogni volta che devo imitare Dread Sempre la stessa cosa Oggi Cold Io sinceramente Non so minimamente Imitare Dread Cioè proprio L'unica cosa Che mi viene Che mi viene da imitare Di tutti quanti al Cristo Pub Però Tutti quanti al Cristo Pub E' una cosa veramente molto vecchia Quindi Boh Bella ragazzi Qui è Dread Non mi viene proprio Il prossimo Inizio io E lo dico io Chi è E' Zamp Bella ragazzi Qui è Zamp Non so Ma Contro la lingua di A Contro la lingua di A Contro la lingua di A Buono Ma E' brutto quanto lo fai Nel sen tempo Tu ti sei posato Hai fatto una figlia e' anche morto per quanto riguarda ancora dire ahahah noi potevamo mettere zampe quando si andava al game street nel tragitto Roma-Milano durante il treno potevamo fare tutta l'intro del zampe e zampe ancora lì esattamente mentre quando fa l'outro e' il contrario e' Jimmy Dice perchè giustamente ci mette la vita a fare l'intro e recupera con l'outro mi devo sbrigare se mi è piaciuto per sottotitoli e' zappa ciao foto 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 un corrigere anche per te zampe il prossimo che ne obitare è uno straniero ed è PewDiePie What's up guys? PewDiePie 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 no perchè è più tipo PewDiePie e poi diciamo c'e' PewDiePie e' Favij che bella ragazzi che sono Favij e' bella no video mamma mia pare porco due che è incazzato con la gente c'è una cosa allucinante però avari bella lorenzo amico mio amico mio amico amico mi dà ma che' una diretta sceglie romano tranquillo ho fatto male ragazzi sono fai infatti fai 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 come cazzo fa che ecco si usava le fai le fai le fai le fai nel vero il vero di io per la raragare la raragare la raragare la raragare la raragare la raragare e poi ovviamente dovrei fare fare tipo un macchinone però non ho il cash che è a lui raragare se ho chiesto il mio nuovo gameplay ragazze 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 sono anima raragare su questo nuovo gameplay e oggi andrò a fare un pack opening molto speciale che poi nell'inno nell'inno te poi arzata tu sei anima hai capito? nell'inno è tutto tranquillo poi durante i video ammazza la gente e stupra le sedie. il prossimo video che andremo a guidare johnny click che lui fa bene lui fa troppo bene ma benvenuti whatsapp signori sono johnny crick e poi voce così viene meglio e il mario ora viene meglio whatsapp signori sono johnny crick e benvenuti con questo nuovo video strogo contro conti strogo bro amore belli amore totale mamma mia johnny bella johnny torno a valutare uno dei posti cos'altro il senso di l'arco ho fatto rarco 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 roba rarco 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 della voce rarco 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 anziana la foto per te cosa si dice a salire l'argomento per il modello per non parlare oggi perché oggi non c'ho prato diamo anche il lato ti capisco di rivolto al bacio inizio ottimi amici del la caviglia quindi era meglio il bacio di roberto anch'io lui sta sta morendo io non aiuto non ho fatto il primo corso non voglio mettere mai Ah ragazzi Il canale sarà il mio oggi Da oggi in poi La morte è in diretta Io me ne sbarto proprio E' bello che io sto morendo ma con te lo mangiare Vabbè Comunque è bello quando mi mangi Ragazzi oggi è sabato Ricordatevi che domani c'è la partita Del cuore Se vi è piaciuto questo video lasciamo 3000 like E niente noi ci becchiamo al prossimo video E soprattutto ci becchiamo domani A Tredico Saraimondo via Casale Ferranti 64 metro a Anannina Mi raccomando stateci E potrete comprare I bietti del RomaTube che si darà il 22 dicembre Troppe date Voi non ve lo ricorderete quindi domani comunque Stateci Alle 15.30 dovete stare là In descrizione trovate il link al bietti Tutto quanto quello che vi fare potrete portatevi i soldi Che se vi volete comprare il bietto del RomaTube Voi comprate se vi volete comprare Le magliette di chiunque ve le comprate Se volete darci i soldi ci date E niente Tante foto Tanti autografi E io con le stampelle Quindi non me rompete il cazzo Che vedo via via stampellate in faccia Ciao Bella Ciao 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 Ciao